e sono al centro della grande polemica di questi giorni. Voi cosa avete fatto in Emilia Romagna? Sì, cominciamo da qui, direttore, dicendo che quella che sta diventando la discussione di questi giorni, i costi della politica, gli sprechi della politica, quanto ci costano le nostre assemblee elettive a tutti i livelli, Camera, Senato, consigli regionali, io penso che sia un problema che si sta assumendo con forte ritardo però, io ho fatto campagna elettorale nel 2010, l'anno scorso, campagna elettorale che poi ha visto l'elezione, poi l'elezione a Presidente del Consiglio, ma già un anno fa, parlando con le persone, questo tema emergeva con una dirompenza che mi ha colpito, mi ha stupito, fino anche a diventare la prima proposta da Presidente dell'Assemblea Legislativa del Consiglio regionale eletto, la prima proposta è il primo terreno di lavoro, perché prima della legge che abolisce il vitalizio, poi ne parliamo con un attimo di dettaglio, l'ufficio di Presidenza da me presieduto ha ridotto immediatamente, primo provvedimento, meno 650 mila euro di costi di funzionamento dei gruppi consigliari, ogni gruppo che siede in Consiglio regionale come in Parlamento ha un budget per il funzionamento, abbiamo fatto una scelta drastica con un taglio che ammonta all'importo, 650 mila euro su qualche milione di costo complessivo, è circa il 15%, abbiamo abolito l'indennità di missione, che è un balzello di quando un consigliere presta servizio fuori dalla sede, tutte le regioni hanno... Quando sta più chilometri rispetto a Bologna, esattamente, e abbiamo, e il sottoscritto il Presidente ha rinunciato all'auto blu che era prevista da disciplinare dell'ufficio di Presidenza come, tra virgolette, macchina di servizio con autista, ho pensato di dare anche questo elemento di contributo, una scelta personale, sono 80 mila euro di risparmio, il bilancio della regione è cuba 14-15 miliardi di euro, dopo ne parliamo, è evidente che non si risollevano la necessità di politiche pubbliche innovative, però mi sembrava una precondizione per metterci in quella relazione di sintonia con i cittadini che consentisse poi di condividere scelte, sacrifici e operazioni. E poi questo provvedimento che lei giustamente ricordava, primo e unico in Italia, è salito anche alle cronache di qualche organo di informazione nazionale, oggi ne parliamo con lei, cioè la scelta di abolire questa pensione alla quale i consiglieri regionali hanno diritto una volta compiuti i 60 anni di età, qualora avessero fatto anche una sola legislatura, questo vitalizio cresce a seconda del numero di legislature che sono fatte in regione, noi dalla prossima legislatura questo esituto non esisterà più. E la prima obiezione che mi hanno fatto, bravo Ricchetti, dalla prossima legislatura, lo dico perché è anche la possibilità, questa chiacchierata con lei, di entrare nel merito dei provvedimenti, perché i provvedimenti devono essere fattibili e sostenibili. Nel momento in cui mi sono seduto in quel consiglio regionale lì da presidente, i consiglieri hanno da subito applicato le regole in vigore, cioè versato il contributo che faceva maturare il vitalizio. Noi questa legge l'abbiamo presentata e approvata nel dicembre gennaio, dicembre dell'anno scorso, gennaio di quest'anno, erano già intercorsi sei mesi, che vuol dire tutti i mesi migliaia di euro di versamento, avrei dovuto restituire ai consiglieri o comunque fare un provvedimento retroattivo rispetto ai consiglieri, che ne minava la legittimità. Qualche parere mi ha detto guarda Ricchetti che questo potrebbe essere tranquillamente impugnabile come diritto acquisito in un momento in cui, tar e città. Io dico però un'altra cosa direttore, siccome è così semplice farlo a partire dalla prossima, ma perché tutti i consigli regionali e i due rami del Parlamento, Camera e Senato, non lo fanno a partire dalla prossima legislatura. Sappiamo tutti che siamo di fronte ad una discussione politica nazionale che potrebbe vedere il voto al più presto anche la prossima primavera, al più tardi, fra un anno e mezzo perché il 2013 è finita, non toccherebbe gli attuali parlamentari, ma sarebbe un segnale di chi ha compreso la lezione e dalla prossima legislatura, 2013 o 2012 che sarà, questo che va di bene, io vado piano a usare il termine privilegio, ma questo istituto non esiste più, perché vado piano a usare il termine privilegio? Ecco, volevo appunto entrare nel merito perché i nostri teri spettatori, i nostri cittadini hanno sentito questa parola vitalizio che è diventato un valore negativo, però evidentemente a fronte di questo vitalizio sono stati spesi dei contributi presi dagli stipendi medesimi dei consiglieri regionali, perché non era solo la regione che, dico bene, ecco... Certo, il vitalizio si fonda sul principio che un consigliere contribuisce con risorse proprie e al compimento del sessantesimo anno di età gli vengono restituite, però non c'è una logica diciamo contributiva come il sistema previdenziale che tutti conosciamo, hai versato tot contributi, hai la tua pensione, c'è una logica che la tiene agganciata all'indennità del consigliere in carica, per cui è sufficiente che abbia fatto una legislatura, abbia versato i miei 1200 euro tutti i mesi per 5 anni, sono soldi, 1200 per 12 per 5 anni e fa sì che questo al sessantesimo anno di età mi dia diritto al 20% se ho fatto una legislatura, al 35% se ne ho fatti due, dell'indennità del consigliere regionale. Guardate bene che stiamo ragionando di indennità lorde, oggi l'indennità di un consigliere regionale è 6 mila euro al mese lordi, vuol dire che il vitalizio di chi ha fatto una legislatura sarà 1200 euro lordi, non stiamo parlando di cifre dei 30 mila euro al mese di pensione scandalosa, però ci sono due aspetti, il primo è che comunque questo importo che corrisponde ad una pensione media, 1200 euro lordi, viene corrisposto non a fronte di un versamento che ha quell'importo di contributo e tra l'altro ciò che un lavoratore mediamente ci mette 40 anni di lavoro a percepire, il consiglio regionale penso non sia giusto che dopo 5 anni abbia questo tipo di trattamento. Secondo, stiamo parlando del vitalizio nella regione Emilia Romagna, alcune regioni di cui non ho problemi a fare nome e cognome perché penso che sia anche giunto il momento di un po' di verità attorno ad alcuni must che sono i costi, che sono i politici, che sono i privilegi, no, ci sono i politici, ci sono le regioni nella loro diversità, la regione Puglia arriva a riconoscere fino al 90% di vitalizio di una indennità che è circa il doppio di quella dell'Emilia Romagna. Diciamo che è la più alta, la più alta è la Calabria. Adesso io ho studiato regione per regione, lei ha forse assoluto... No, ma è il sole 24 ore che ha fatto in questi giorni uno studio importante. Ora anche le altre regioni hanno un meccanismo che aggancia alla durata del mandato. E' la più bassa, davanti a lei per essere più bassa c'è solo, mi sembra, la Toscana e guarda caso il Lazio, ecco, quindi 5600, sto parlando naturalmente dell'indenità. Ah, dell'indenità, sì, pensavo al vitalizio. E quindi comparato il 20%. E quindi di conseguenza il vitalizio, è chiaro che la percentuale più aumenta, più prende come termine di comparazione l'indenità e quindi aumenta anche il vitalizio, però lo dico perché se ha provveduto l'Emilia Romagna ad eliminare il vitalizio, penso che anche nelle regioni dove conosce importi molto più significativi di quello che percepiranno gli ex consiglieri dell'Emilia Romagna, si potrebbe fare un ragionamento molto concreto. Io penso anche che da un lato questo problema ci sia, cioè Matteo Ricchetti che fa il consigliere regionale, il presidente del consiglio regionale per dieci anni, in questi dieci anni dal suo posto di lavoro dal quale è inaspettativa, cosa che tutti dovrebbero avere per fare politica con maggiore libertà, c'è un versamento contributivo minimo di poche migliaia di euro all'anno, che vuol dire che la mia pensione sarà una pensione da lavoro molto bassa e penso che sia giusto che Matteo Ricchetti abbia la preoccupazione di integrarla perché dai 65 anni in avanti anche lui possa avere… Presidente, mi perdoni, io credo che le cose che potevano dare fastidio erano due, prima era che il primo step era 55 anni, poi è stato, parlo dell'Emilia Romagna, poi è stato portato a 60, mi sembra, una legislatura fa. Esattamente. Ecco, e già questo era veramente un po' esagerato. Certo. Il secondo è quello, e questo è quello che forse il cittadino non capisce, se uno sta a quattro legislature, qual è il motivo per cui deve prendere quattro legislature di vitalizi? Se a un certo momento il vitalizio raggiunge una cifra che potrebbe essere uguale alla pensione per un lavoratore, magari anche di media o medio alta posizione, perché se uno sta lì, molte legislature, un discorso che faremo dopo, che bisognerebbe limitarle, una volta si diceva tre mandati, poi qui sono venuti questi ultimi che la politica dicono che non è una professione, ma stanno sei, sette legislature, ne dobbiamo parlare perché questi vent'anni hanno dimostrato delle cose veramente fuori dal normale. Ecco, questo forse, non so se è chiaro, adesso lei le ha abolite, quindi diciamo... Il problema non si può riuscire. In Emilia Romagna, fino a che insomma il provvedimento è stato in vigore, c'era un limite massimo di tre legislature, quindi facendone di più non aumentava l'importo del vitalizio, che comunque arrivava al massimo del 50% con le tre legislature, per evitare come diceva lei che raggiunto un importo congruo non si capisce perché aumentare a dismisura e tra l'altro, bisogna ricordarlo ai nostri telespettatori, questo vitalizio è cumulabile nel momento in cui si cessasse l'attività politica anche l'eventuale vitalizio da parlamentare. Questo lo dico perché mentre un ex consigliere regionale è in carica da parlamentare non percepisce il vitalizio, cioè si sospende l'interruzione durante il mandato parlamentare, quando si interrompesse li percepisce entrambi. Ora lei capisce che arriviamo ad importi che sono assolutamente esagerati e tra l'altro mi scusi se la interrompo, non frutto di quella logica contributiva perché se fossero tutti soldi versati e semplicemente indicizzati il mio ragionamento si fermerebbe qui, invece sono soldi versati solo in piccola parte, solo per dare un dato perché mi piace anche ragionare di numeri, oggi la regione Emilia Romagna incassa tutti gli anni dai consiglieri come versamento circa 800 mila euro, cioè 50 consiglieri che in un anno versano più di 1000 euro al mese, 800 mila euro, ma escono 4 milioni e mezzo di euro sul bilancio della regione. Io penso che non sia giusto che la collettività si carichi di questa forbice che ovviamente è una forbice in aumento perché i consiglieri sono sempre 50 e i pensionati aumentano. Che lei il suo dovere l'ha già fatto perché mentre invece, ecco partiamo un po' sul generale, si dice la manovra che conosciamo tutti, questa manovra di cui anche qui non si sa bene la quantità perché alcuni giornali parlano di 70 miliardi di euro perché fanno la somma dei 4 anni in cui è stata spalmata, altri dicono sono soltanto 47, quindi non è ancora capibile anche che è un'altra di quelle cose poco chiare che in questo paese purtroppo si evidenzia spesso. Allora la manovra non ha inciso assolutamente o quasi assolutamente sulla politica, soltanto mi sembra per 7,7 milioni di euro per tagli accessori, adesso Fini oggi ha detto no, anche sulle pensioni, sui vitalizi che superano i 90 milioni eccetera un'ansia di oggi, Fini dice no, no, li applicheremo da immediatamente, non so se lo potrà fare, ma però ecco cominciamo a parlare anche un po' di politica, insomma nel momento in cui al paese si chiedono dei sacrifici di questa natura. La casta, c'è stato un libero, io non sono d'accordo su questa parola perché credo che la democrazia, parleremo dopo, necessiti assolutamente di persone che la fanno funzionare e che debbono essere anche pagati, perché altrimenti facciamo le dittature che costano molto di più, anche in termini di danaro secondo me, oltre che in termini di drammi e di disagi. Ecco perché secondo lei il governo che dovrebbe avere sensibilità per questo non ha inserito da subito qualche provvedimento, salvo poi dopo una cena ad Arcore che è diventata Palazzo Chigi numero due, Calderoli il ministro per queste robe, anzi il ministro per fare semplificazione amministrativa, presenta un vecchio DDL perché è costituzionale, quindi vedrà la luce quando... è molto complicato. Ecco esattamente, io sarò un po' più vecchio e lei un po' meno giovane, insomma. Ecco, allora perché secondo lei il governo non ha fatto una cosa che la gente si aspettava, al di là di tutte le cose che dovremmo pagare tutti insieme, insomma? Ma io penso direttore che dietro ci sia la vera volontà della politica, certo del governo però io penso che sia giunto il momento di essere severi con tutta la classe politica nazionale, perché bene, oggi questo tema dei costi è all'ordine del giorno, i giornali riempiono le pagine, su qualche blog e su qualche social network si scatenano le curiosità quasi più maniacali, ma è assolutamente da irresponsabili far maturare così questo senso di astio, quasi di insofferenza verso la politica e non si è voluto fare sul serio e non si vuole fare sul serio, né da parte del governo né da parte del Parlamento. Io ho bisogno di un minuto per ragionare un attimo di cifre, perché altrimenti, come dice lei, questo ragionamento ci apre all'antipolitica più spinta, cioè all'idea che siccome le istituzioni pensano a sé, fanno i loro interessi, sono autoreferenziali, quindi non servono, ma una cosa che non serve anche un euro al mese, anche mille euro al mese sono troppi per una cosa che non serve. Siccome le istituzioni non solo servono, ma la democrazia è un valore e avendo un valore deve anche avere un costo, come facciamo direttore a fissare un costo congruo del funzionamento della democrazia? Tant'è vero che il ministro Tremonti, secondo me con una razio, dice prendiamo un riferimento, prendiamo la media europea, per fissare delle indennità congrue, non le più alte d'Europa, prendiamo la media europea, immediatamente il Parlamento furbescamente prende le regioni più alte, prendono i sei paesi che riconoscono, vede quando è che dico manca la volontà di fare sul serio, allora io faccio un'altra proposta, la faccio al ministro Tremonti e la faccio al Parlamento, c'è un Parlamento regionale fatto di 50 parlamentari che sono i consiglieri dell'Emilia Romagna, che costa 35 milioni di euro all'anno, tutto, indennità, uffici, dipendenti, affitti, ufficio legislativo, ufficio personale, iniziative, è un Parlamento che ha la funzione di produrre leggi esattamente come la Camera e il Senato, che costa per 50 consiglieri 35 milioni di euro. Se l'Emilia Romagna, poi possiamo prendere anche altri esempi se sono più virtuosi, ma io parto da quello che conosco, per 50 consiglieri costa 35 milioni, quanto deve costare la Camera dei Deputati per 600 deputati parlamentari? 50 sta a 600, come uno sta a 12, allora io prendo i miei 35 milioni di euro, li moltiplico per 12 e gli regalo le economie di scala, gli uffici personale, l'ufficio legislativo, so che è complicato ma proviamo a seguire, moltiplico per 12 e trovo 35 per 12, 350, 450, 500 milioni di euro, un funzionamento congruo per un Parlamento che è 12 volte grande del mio, è 1 miliardo e 2, sono 40 volte, 1,7, ci sono anche qui dati contrastanti perché è una cosa scandalosa direttore che dell'estituzione non si riesce a conoscere il costo vero, Camera e Senato avrebbero un costo complessivo di 1 miliardo e 1,7 miliardi. Io parlavo solo della Camera a 1 e 2, del Senato mi risulta 600 milioni, lo possiamo fare uguale del Senato, 300 senatori sta a 50, come uno sta a 6, 35 per 6 fa 18, fa 200, non fa 600. Lei dice, prendiamo il più virtuoso e facciamo riferimento. Ma prendiamo un modello che funzioni, poi dopo, io non so se casomai l'Umbria, la Toscana, perché qui non è un problema di virgole, però è evidente che i costi della politica a livello nazionale sono fuori controllo e in qualche regione, perché anche nella virtuosissima Lombardia, che ha 80 consiglieri regionali, insomma io mi aspetto che ha una struttura per uffici, per personale simile ad un consiglio che ne ha 50, non può costare il doppio delle miglia romagna, perché costa il doppio delle miglia romagna, dove le indennità hanno importi molto più importanti. Allora, qui si tratta, perché altrimenti, sfogliando la margherita una alla volta, il vitalizio, il numero dei parlamentari, non si conclude nulla, ma soprattutto se noi aboliamo il vitalizio domani, non prendiamoci in giro, è un provvedimento che nell'immediato non dà un beneficio di risparmio delle casse dello Stato, perché abbiamo una situazione che porta ancora a qualche d'uno che matura il diritto e anzi ci viene meno chi versa il contributo. Se io riduco i parlamentari, cosa che sarebbe da fare subito per la prossima legislatura, la regione Emilia Romagna l'ha fatto. Io sono entrato in regione nel 2005 con uno statuto che era già approvato ed in vigore, che diceva che la regione Emilia Romagna ha 67 consiglieri. In quella legislatura, con una procedura tra virgolette costituzionale, perché cambiare lo statuto della regione è come cambiare la costituzione del paese, noi abbiamo fatto una doppia lettura, velocissima, da 67 a 50. Quando si vuole fare una cosa? La si fa così, non lo dico in termini di orgoglio emiliano, perché anche l'Emilia Romagna... La testa, diciamo, perché francamente era esagerante. E quando si vuole rimettere la testa a posto, si fanno provvedimenti... Le do una buona notizia, il Presidente Fini oggi, Nans di poco fa, dice che ammonteranno circa 110 milioni di euro nel triennio i tagli ai costi della Camera, che il Presidente Fini proporrà domani all'ufficio di Presidenza, a cui si aggiungono 60 milioni nel triennio già decisi nei mesi scorsi, quindi sono 170 milioni di euro che verranno risparmiati. È una buona notizia, se è così è una buona notizia. Vediamo un attimo il cartello numero uno con una dichiarazione del Ministro Tremonti, perché va nella direzione di quello che abbiamo detto. Dice sulla riduzione dei costi della politica c'è stato totale accordo, quindi dice non puoi ridurre se non autoriduci, è una delle frasi del totale accordo, non mi pare, non mi pare nemmeno che si siano autoridotti, quello che abbiamo detto fino ad ora, e quindi la frase del Ministro è una frase che si può collegare, e su questo vorrei intrattenerla un attimo, su questo decreto DDL costituzionale presentato da Calderoli, quindi metà dei parlamentari, perché sono troppi, sia del Senato sia della Camera, poi solo se vanno a lavorare vengono pagati, mi sembra che questo sia una delle altre, poi ci sono alcuni cambiamenti strutturali, meno poteri del Presidente della Repubblica, ecco qui per esempio io faccio un primo discorso, se manteniamo la legge elettorale di oggi, a chi governa, chiunque sia, è ancora più facile controllare la metà dei parlamentari, quindi non vorrei che fosse addirittura un aggravante, perché su 600 forse 30 che non stanno a gioco ci sono, su 300 può darsi che siano tutti incolonnati, non so se è un'osservazione giusta, però mi chiedo, ma una legge costituzionale significa prenderci in giro, ci vorranno due anni? È un'osservazione, quella che fa lei, che io condivido pienamente, per due motivi, intanto perché appunto con questo sistema elettorale, per cui i parlamentari che vengono cooptati o dai segretari di partito o dai leader indicati a premier della coalizione, è evidente che hanno una capacità di rispondenza molto superiore rispetto a quella che hanno verso il collegio che li ha espressi, non esistendo un collegio che li esprime, la seconda è che anche qui quando si vuole fare un intervento secco sul tema dei costi, lo dico perché ci siamo trovati in regione nella stessa situazione, si vuole ridurre il numero di parlamentari, si faccia questo con procedura d'urgenza, ricordiamo che le modifiche costituzionali hanno doppia lettura, in due camere, quindi è evidente che bisogna partire subito per farlo scattare dalla prossima legislatura, dalla prima occasione di voto, quando noi in regione abbiamo ridotto il numero dei consigli regionali, pensi un po' lei se avessimo introdotto più poteri a Errani, al Presidente piuttosto che laggiù, ci sarebbe stata una discussione di merito che avrebbe portato a prolungare anche un po' di ostrozionismo, a dividervi di più insomma, invece, e penso che in un provvedimento di modifiche costituzionali, ma perché non si prende la riduzione secca dei parlamentari, la si porta in fondo, so benissimo che non è un approccio strutturale, sapendo che è un Parlamento che tutte le volte che discute del merito si divide, a volte anche all'interno della stessa maggioranza. Perché c'è chi dice, ma come fa una casta, tra virgolette, ovvero una classe dirigente, io sono molto più portato a parlare di classe dirigente, che può essere buona o non buonissima, insomma, però è sempre, sono persone che si occupano della cosa pubblica, come fanno queste persone a votare contro se stessi? Perché è pur vero che sarebbe dalla prossima legislatura, ma nel momento in cui un gruppo parlamentare formato da 300 e sanno che 150 vanno a casa per dire, ecco... Non c'è dubbio. Perché secondo lei in Consiglio regionale non c'è qualcuno che pensa al prossimo giro, io ho già fatto anche un'altra legislatura, ma verosimilmente chi ha la prima legislatura di poter proseguire con l'esperienza. E quando ho proposto l'abolizione del vitalizio, che varrà anche per quelli che verranno riconfermati, sparirà per tutti, e qualcuno non è venuto l'ufficio a dirmi, ma è proprio necessario Presidente. Quando abbiamo ridotto, lo ricordava lei, quello che secondo me è stato un colpo di testa, però un colpo di testa che in Toscana è andato in porto, che in molte regioni è andato in porto, in Puglia hanno 70 consiglieri regionali a fronte di una popolazione uguale alla nostra. Non dimentichiamo che qui i colpi di testa continuano. Oggi, ancora oggi, sui giornali di questa mattina, in Puglia c'è il racconto che siccome hanno vinto il ricorso di costituzionalità della riduzione del 10% all'idenità dei consiglieri regionali, hanno fatto ricorso per averli. A me pare, per rispondere alla sua domanda, ma com'è? Perché uno deve segare l'albero, il ramo su cui è seduto? Perché se crede nella politica, come ci crediamo noi, sapendo anche di parlare a tante persone che condividono questa idea, io per alcuni anni mi sento la responsabilità di interpretare i cittadini, il mio territorio, nelle istanze che servono a tutti, non a me. Se non recuperiamo mica questo pezzo di... Presidente, non vorrei che, siccome questo è un paese che negli ultimi anni ha questa logica, nessun colpevole, tutti colpevoli, oppure tutti colpevoli, quindi è inutile che ne parliamo, questo succede per i discorsi della magistratura, se mi consente anche i discorsi sul calcio, i discorsi e quindi sui costi della politica, perché si sta andando verso un ragionamento che raggruppa tutti, dice via via, ma questo è molto pericoloso, perché non è solo l'antipolitica di Grillo, perché ci sono poteri molto più forti e nel momento in cui al cittadino togli la voglia di andare a votare, ed è stata tolta in parte, perché lei sa che ci sono proporzioni di voto, una volta eravamo i primi in Europa, 80-85%, oggi stiamo andando sul 55%, è vero che le grandi democrazie calano, però questo paese può rischiare ancora, io sono preoccupato di tutto ciò che leggo e sento per quanto riguarda l'antipolitica nel senso che non ce ne sarebbe bisogno. Io penso che, non so se c'è un disegno, ma condivido con lei che sicuramente c'è il rischio che questa politica arrivi a contare talmente poco, ma soprattutto ad essere eletta come la parte peggiore del paese, per parafrasare il ministro Brunetta non rivolto alla politica ma qualche altro pezzo di società, le confesso un'altra cosa, io sono stato all'assemblea di Confindustria di Modena e ho sentito nell'intervento del presidente Ferrari dei passaggi che facevano riferimento ai politici, i politici poco competenti, i politici distanti dalla realtà, la politica che costa troppo, la politica che non capisce che per chiedere sacrifici bisogna farli insieme al paese. Io mi sono sentito doppiamente umiliato, da un lato perché ero tra i politici a cui si faceva riferimento, non potevo chiamarmi fuori, chi sono io, dal lato ho colto che ci fosse la volontà di non riconoscere quella differenza, non perché qualcuno è bravo e qualcuno è cattivo, ma perché fa scattare quello che dice lei, perché devo differenziarmi? Ma lei pensa che sia stato facile condurre battaglie con tutte le altre regioni che mi dicevano Ricchetti così, rompi il fronte, rompi il sistema, non tiene più nulla. Io ero convinto che con quella battaglia ci fosse invece la possibilità di riaffermare che la politica può diventare qualcosa di credibile agli occhi del paese. Se anche gli industriali, se anche l'associazione, se anche il sistema economico non riconosce quella diversità e dice no, ferma, c'è una regione che costa 30 milioni di euro, il suo Parlamento, l'altro Parlamento ne costa 80 o 100, perché mettere tutto sullo stesso piano? Lì il vitalizio è stato tolto, lì all'auto blu si è rinunciato, lì guadagnano tra i 4 e i 5 mila euro netti al mese, non ne guadagnano 18, ma bisogna dirle queste cose qua, e invece no, come dice lei è tutto, la debolezza e la non autorevolezza della politica. Ma vorrei dirle di più, ho letto per esempio di una proposta leghista che i politici dovrebbero fare degli esami, gliela dico perché è un consigliere comunale di Modena, allora quando io leggo queste cose dico ma e chi fa l'esame? Perché il problema siamo sempre lì, perché chi fa l'esame? Poi chi lo dice che un bravo politico debba essere per esempio un bravo ragioniere, un bravo amministratore? Anzi, io devo dire che quando Berlusconi è entrato in politica, me lo ricordo, dissero finalmente uno che è pieno di soldi e che quindi questo paese non verrà più razziato perché c'era stata Tangentopoli, ecco mi pare che questo scopo non sia stato raggiunto perché oggi la magistratura, lasciamo stare la fesseria che sono tutti comunisti o addirittura brigattisti, perché questa non fa parte veramente dell'intelligenza umana, insomma, a un certo momento il paese è scosso credo oggi molto più di allora, allora c'era da cambiare una classe dirigente che aveva governato per 50 anni con tutto quello che voleva dire, ecco allora quando sento dire che bisogna fare un esame, ma scusate, l'esame glielo fa l'elettore, dobbiamo fare, secondo me, adesso io glielo chiedo, dobbiamo fare delle leggi elettorali che diano all'elettore la possibilità di scegliere il proprio candidato, scusi lei è stato eletto prendendo delle preferenze? Un pochino, un pochino di preferenze. Credo che a un certo momento i suoi elettori hanno detto io voto Ricchetti perché mi piace. Ho avuto una commissione di esame di 13 mila elettori modenesi che hanno detto va bene, poi forse possono essersi sbagliati tutti, però voglio riprendere una cosa che lei diceva, a proposito del 92 e della convenzione di archiviare una stagione politica e di aprire un'altra, quella era la stagione in cui nel mirino più che i parlamentari, le istituzioni, i privilegi, c'erano i partiti, i partiti corrotti, i partiti del secolo scorso, della prima repubblica che erano da spazzare via e si è detto basta mettere uomini dei partiti, mettiamo uomini che vengono dagli uffici, dalle professioni, che conoscono la realtà e oggi ci ritroviamo a cacciare via un sentimento diffuso, insomma quello che parlavo prima di insofferenza, di una classe politica che come dice lei dal 92 ad oggi c'è anche chi si è fatto tutti i mandati che sono intercorsi, quindi scarsa capacità di rinnovamento, persone che vengono anche da esperienze del mondo dell'azienda, delle professioni, ma che hanno più rispondenza al capo di quanto non avessero gli uomini di partito e le monetine che hanno cacciato via una classe dirigente oggi sono sostituiti dal web in cui si sprecano le monetine virtuali, io le chiamo, cioè quella qualunnia, quell'odio, mandiamoli a casa tutti, tagliamogli la testa, andiamo là, facciamogli, ecco io penso anche i provvedimenti che sto provando a mettere in campo con fatica hanno proprio il senso di arginare questo, non di assecondarlo, voglio essere molto chiaro, perché altrimenti stiamo facendo un disservizio alla prima grande necessità che è ridare autorevolezza alle istituzioni e alla politica, io ci credo profondamente, in questo senso però i partiti, lo voglio dire anche al mio direttore, perché adesso il PD ha scoperto il tema dei costi della politica, io mi sono trovato poche settimane fa, non anni fa, a polemizzare con i miei parlamentari che avevano proposto alla Camera un disegno di legge per raddoppiare il finanziamento pubblico ai partiti attraverso lo strumento delle fondazioni, perché bisogna dire parole di verità, o si ha compreso dove si è, l'Italia è in una situazione drammatica dal punto di vista economico, poi se parliamo un attimo di manovre, di ticket sanitari, di quello che sta a cuore alle persone in questione, che non sanno nemmeno che cosa gli è chiesto con chiarezza, perché la manovra non l'ho capita fino in fondo nemmeno io, è una classe politica che gli sta dicendo avidamente che tutto sommato va bene così, che bisogna tenere, che non bisogna cedere all'antipolitica e addirittura qualche d'uno, sotto l'onda di un concetto anche giusto, la politica non la può fare chi ha i soldi, ma non può nemmeno essere che la prima funzione e la prima destinazione dei soldi pubblici siano la politica e i partiti, oggi no, oggi assolutamente no, questo è un principio che la politica insieme, a me piacerebbe che si facesse fronte comune su questo, non solo sulle manovre tecniche, che poi però producono che ancora oggi alla Camera si stanno mandando sotto l'uno con l'altro sul tema dei rifiuti, mi pare una tregua durata molto poco dal punto di vista della responsabilità, mi piacerebbe che si riscoprisse questa necessità comune di ridare respiro alle istituzioni. Allora, sempre per quanto riguarda ciò che pensano della politica, vediamo il cartello per piacere numero due, un cartello firmato, una frase firmata da Luca Cordero di Montezemolo, il quale dice, in Italia non c'è mai limite al peggio e la politica sta offrendo uno spettacolo indecoroso, l'ha detto un giorno o due fa, sappiamo che Montezemolo può darsi che pensi di entrare in pista o non entrare col terzo polo con se stesso dei poteri forti, non lo so, però è chiaro che è un personaggio come Luca Cordero di Montezemolo che è sempre stato parallelo alla politica, non fuori, diciamocelo con onestà, io dico parallelo perché se no diremmo una bugia grande, come molti imprenditori sono paralleli alla politica, poi si sono anche incrociati con Tangentopoli perché anche lì si è detto i politici hanno tutte le colpe, gli imprenditori no, non diciamo queste cose, gli imprenditori sollecitavano di avere lavori e quindi davano tangenti, ma la cosa ormai è archiviata. Ecco, una frase di questo tipo aiuta a rinnovare o aiuta invece a creare ancora imbarazzo a chi comunque della politica fa un'arte o una missione? Penso che una frase così viene detta, sapendo di cogliere un grande sentimento che c'è in questo paese, penso in questo condivido anche però con chi ha probabilmente sotto l'intenzione di giocare una partita, fino ad oggi Montezemolo è rimasto certamente parallelo alla politica, mi pare che stia strutturando questo fare futuro, questa associazione in maniera quasi da radicamento da partito, mi pare che abbia una presenza sulla scena della politica con un'assiduita natale che lascia pensare quantomeno un interesse ed è evidente che condizioni di cambiamento e di rottura, di discontinuità sono quelle più propizie su cui costruire anche uno spazio politico nuovo, fosse questo un partito, fosse questo uno schieramento, un polo, oggi i termini si sprecano. È evidente che noi siamo all'alba di una stagione di cambiamento, adesso al di là delle questioni di parte, io oggi tra l'altro la ringrazio perché questa chiacchierata mi tira fuori da un elemento di contenzioso destra e sinistra, la mia è una figura di garanzia, non c'è bisogno di avventurarci in nessuna lettura di parte, ma è evidente che questa, penso che saremo di fronte alla fine di una stagione che è quella che dal 1994 ha caratterizzato la scena politica non solo con Berlusconi ma anche con tutto quello che ha fatto da contraltare Berlusconi, non dimentichiamolo, quelli che hanno archiviato la cosiddetta prima repubblica e c'è davanti a noi la necessità di ripartire con una relazione con i cittadini nuova, con strumenti e spazi della politica nuova, con modalità di relazione, anche lo strumento partito oggi, se nel giro di tre ore 155 mila persone partecipano alla discussione di, non mi ricordo, Spider Truman si chiama questo, che certo è un modo di aderire o di stare nella politica un po' discutibile, ma ti dà la dimensione della difficoltà che hai di coinvolgere le persone con le forme politiche tradizionali dei partiti e quanto tutto invece sia in grande evoluzione, ecco, è evidente che siamo alle soglie anche Scusi Presidente, proprio il suo segretario Bersani, segretario del PD, l'altro giorno chiudendo l'intervento alla Camera sulla manovra, ha detto, beh insomma proviamo a guardare la Germania, la Germania sta andando bene, ci sono dati importanti e perbacco dice, viva Dio, ha detto, in Germania esistono ancora i partiti ai quali fanno riferimento gli elettori e comunque i partiti rispondono agli elettori e sono una coalizione che sta avendo i risultati che sappiamo, ecco, è una dichiarazione che se ne sentono poche perché diciamo la verità in questo ventennio, ventennio lo dico solo perché sono quasi vent'anni per l'amor di Dio, ecco, sono comparsi i nomi e cognomi di coloro che erano o che sono i capi dei partiti, Berlusconi, Fini, cioè sulle Casini, Di Pietro, Bersani, non lo so, comunque da qualche parte, Prodi, ecco, quindi alla fine forse è questo che bisognerebbe un po' limare, questa personalizzazione della politica e tornare, va bene i blog, va bene internet, va bene tutto quello che volete, ma il partito, quello che è l'aderenza, diciamo, con la realtà territoriale, secondo me un partito la deve continuare a mantenere, lei cosa pensa? Penso che Bersani abbia detto una cosa molto giusta, molto vera, che io condivido molto, lui, devo dire che ha questa capacità anche di dire cose, tra virgolette, a volte un po' impopolari o che forse hanno poco, lo seguito oggi alle persone piace parlare di forme leggere, di social network, di social media, di comunicazione snella e invece o si recupera un senso di rappresentanza profondo delle persone e dei loro bisogni, il ruolo dei partiti, è la rappresentanza dei cittadini, cioè portare le istanze per conto dei cittadini e in questo noi dobbiamo rilanciare, riscoprendo però un po' la forma partito, nel senso che se vogliamo salvare i partiti previsti per Costituzione dobbiamo anche saperli cambiare, saperli trasformare, non può essere il partito del funzionariato, non può essere il partito che vive solo della dimensione organizzativa, non può essere il partito vicino alla parrocchia, come si faceva una volta, vicino alla parrocchia, poi è importante che non perde i valori e le ispirazioni, però è evidente che stiamo ragionando di una trasformazione profonda che ci deve caratterizzare. Adesso ci riposiamo per due minuti, mandiamo uno spot pubblicitario, poi prepariamo immediatamente un servizio sul sindaco di Firenze, Renzi, con il quale lei ha avuto qualche dibattito. Siamo in grado di mandare in onda il servizio con protagonista il sindaco di Firenze, che ha qualche collegamento con il nostro presidente che stiamo intervistando. Il gesto di Caselli, o meglio l'invito al numero uno dei rottamatori, non ha lasciato indifferente il monto della politica locale, che sostanzialmente ha visto di buon occhio la mano tesa al primo cittadino di Firenze. L'unica affermazione provocatoria per ora arriva dal presidente regionale dell'assemblea legislativa, Matteo Ricchetti, corteggiato dallo stesso Renzi in occasione della sua visita a Modena, il quale raccomanda a Caselli di leggere il libro scritto dal sindaco della città del Giglio. Renzi e Caselli non sono nemmeno lontani parenti, ha incalzato Ricchetti in una nota. Il primo è un vero innovatore, fa cose concrete e Caselli a due anni di distanza sa recriminare solo contro l'ex sindaco Pattuzzi. Di avviso opposto invece il consigliere provinciale PDL, Luca Gelfi, secondo cui si è trattato di un gesto comunque da applaudire. Non è un'iniziativa da condannare, si tratta solo di capire cosa si intende. Io penso che a differenza del centro-sinistra, il centro-destra, come posso dire, abbia qualche argomento in più e più efficace sugli elettori. Chiaramente per esempio condivido pienamente il sindaco Renzi quando dice che con l'anti-berlusconismo non si va da nessuna parte. Posso solo dire che la vera rotamazione si avrà quando si verranno reintrodotte in tutti i livelli, sia all'interno dei partiti, sia a livello di elezioni, il meccanismo delle preferenze. Dello stesso avviso anche Michele Barcaiuolo, consigliere comunale PDL, secondo cui però a gesti come quello dell'asse lanciato da Caselli a Renzi dovrebbe seguire una democratizzazione della politica all'interno del partito. Ecco, diciamo che scopiò a un certo momento in questa provincia questa polemica perché giovane Renzi, giovane Ricchetti, giovane anche Caselli che ha, perché adesso chiaramente il PDL è un partito in crisi, questo è un servizio di un mese e mezzo fa, se noi lo andiamo ad analizzare è già un servizio che sembra nella preistoria, cioè Gelfi dice noi al centro-destra qualche argomento in più, devo dire che adesso ne avrebbe secondo me qualche in meno, qualche uno in meno, ma le voglio dire una cosa proprio recentissima, ieri l'altra sera a Carpi c'è stata la chiusura della festa del PD, stavo dicendo festa dell'unità ma è sbagliato, e c'era D'Alema, il quale D'Alema ha detto, ma proprio avendo anche applausi importanti, ditemi per quale motivo, ha detto D'Alema, gliela riporto più o meno come l'ho sentita, per quale motivo io dovrei dimettermi da tutte le cose che Renzi dice che io non posso più avere perché sono un vecchio arnese della politica e quindi io sono Presidente del Copasir, sono membro dell'internazionale socialista, per quale motivo io dovrei dimettermi solo perché me lo chiede Renzi? Ecco qui c'è il discorso dei rottamatori, io questo discorso lo voglio fare a Dottor Ricchetti perché credo data la sua età, dato il suo ruolo, dato anche il futuro che politicamente può avere e voglio solo aggiungere così lei risponde interamente, io ho visto nella vita politica precedente dei rottamatori che però una volta installati sono ancora lì e che devono essere rottamati dai nuovi, ecco questo fatto che la politica debba durare all'infinito, non è un errore? Sì, l'argomento tra l'altro è interessante, complesso, io ho avuto modo di chiarire anche sulle pagine del vostro giornale, non mi sono mai sentito rottamatore, non sono andato alla stazione Leopolda, non ho fatto parte di quel movimento, mi sento molto in sintonia su alcune cose che Matteo, il sindaco di Firenze dice, abbiamo avuto modo di confrontarci, di conoscere, di costruire anche un'amicizia, Matteo Renzi non ha fatto altro che accorgersi, lo ha fatto Matteo Renzi, lo sta facendo lei adesso, della bontà di alcuni provvedimenti, di alcune azioni, tant'è vero che su alcune trasmissioni nazionali si è lasciato scappare, volete che vi dica chi è il vero leader dei rottamatori? È Matteo Ricchetti, con una battuta che voleva valorizzare le cose che stavamo facendo, ne stiamo parlando adesso, abolizione dei vitalizi, riduzione dei costi, mi ha un po' stupito che se ne sia accorto Matteo Renzi che era impegnato a fare il sindaco di Firenze e il partito democratico se ne sia accorto con un po' di ritardo, poi Bersani, Enrico Letta stanno giustamente portando l'esperienza dell'Emilia Romagna in giro per tutta Italia come modello da seguire, però così sono state le cose, così come sulla vicenda di Caselli, io cercando di non mancare mai di quel rispetto istituzionale che è dovuto perché lui è sindaco, io sono presidente del Parlamento regionale, siamo più o meno coetanei a qualche anno in più di me, però l'ha detta in una stagione come giustamente ricordava lei, in cui il Presidente del Consiglio stava facendo 7-8 nuovi sottosegretari, nessuno poneva un tema di inadeguatezza del PDL, Matteo Renzi stava dicendo che bisognava rottamare la classe dirigente del PD, mi sembrava che la dose di coraggio messa in campo dai due fosse un po' differente, lui se l'ha un po' presa, mi ha mandato a quel paese, anche lì con questi strumenti che io non sono bravissimo a trafficare, ma la discussione è rientrata, il servizio rende bene la dialettica che c'è, riconoscendo entrambi che abbiamo da lavorare dentro le rispettive coalizioni. Tema rottamatori, io non ho mai letto e non ho mai sentito Matteo Renzi porre il tema delle dimissioni dal COPASI e dall'internazionale socialista, ho sentito Matteo porre il tema della selezione delle candidature che deve avvenire in maniera diversa, quando Fassino ha vinto le primarie a Torino, il primo che ha detto è passato dalle primarie, l'hanno scelto gli elettori, un po' quello che diceva lei prima, cioè chi glielo fa l'esame, glielo fanno gli elettori, glielo fanno in maniera diffusa, va bene Fassino al di là dei mandati che ha fatto e delle storie che ha, e qui stiamo perpetrando un sistema in cui si denuncia una legge elettorale e col sistema senza preferenze delle liste bloccate, se ne abusa abbondantemente per riproporre la stessa classe politica, perché io che sono uno, insomma, il presidente più giovane d'Italia, a mio tempo il consigliere regionale più giovane della nostra regione, avendo il piacere di aprire la seduta, è evidente che non ho mai chiesto corsie preferenziali, quote, verdi, arancioni, no, ho sempre detto ce la dobbiamo e ce la possiamo giocare, ma ci deve essere la partita, se invece la partita è che il segretario nazionale di qualunque partito chiama a sé i fedelissimi, secondo lei chi pone il tema del cambiamento è ben accetto, chi pone il tema del ricambio anche in termini di leadership è ben accetto, la storia di Matteo è una storia che parla molto chiaro, a Firenze, che ha una connotazione politica e anche ideologica non molto diversa dalle nostre zone, non sostenuto da nessun grande leader, la base del PD, dei democratici, non dei altri partiti, quindi dagli elettori è venuto una tale richiesta di cambiamento che si è potuto esprimere solo con un processo veramente aperto, se avesse fatto la selezione della candidatura al partito saremmo arrivati su Matteo Renzi? No. Lascio con questa domanda, però il punto è molto chiaro. Le faccio io una domanda delicata, ma lei sarebbe andato al posto di Renzi ad Arcore da Berlusconi? Con quello che ne ha seguito, speculazioni ovviamente di varia natura. Penso che a speculazioni avvenute anche Matteo si sia morso un po' la lingua e le mani del volante che l'hanno portato là. Devo dire che lui risponde sempre e a me questa motivazione convince che per il bene della sua città si va anche a trattare e a discutere col Presidente del Consiglio, non con altri. Devo anche dire che le cose che sta facendo per Firenze e che ha portato a casa per Firenze nella relazione col governo gli danno abbastanza ragione della necessità di dialogare anche con chi è molto molto diverso e distante da te. Allora, adesso abbiamo parlato molto di politica, dei costi della politica, di politica, di innovazione. Adesso parliamo della manovra. Un attimo perché comunque le regioni hanno protestato, hanno anche loro qualcosa di negativo da dire su questa manovra. Vediamo in particolare cosa ha detto col cartello numero 3 il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della CEI italiana. Ha detto esattamente la famiglia va difesa, bisogna potenziare il lavoro perché con il precariato le famiglie non si formano. Cardinale Angelo Bagnasco. Quindi è una frase che io ho preso in un discorso che lui ha fatto proprio di riferimento a questa. Perché se uno legge bene questa manovra ha l'impressione che chi è stato colpito duramente siano proprio le famiglie. Quelle che si pensava dal quoziente familiare ma anche dal discorso che comunque il ceto medio che diventava un po' la famiglia che compra col mutuo l'appartamento. Insomma qui vengono tolti tutti gli incentivi, addirittura non se ne danno, ma si vengono tolti quelli che ci sono attraverso il drenaggio fiscale. Non dimentichiamo mai che questo governo, perché non si vuole, poi le cose bisogna dirle perché se no diciamo solo delle bugie, solo un mese fa questo governo dopo quella infornata di sottosegretari è stato detto dobbiamo fare alcune cose importanti, riforme. La prima quella di tipo fiscale. Ebbene dopo un mese la riforma fiscale non si vede, se ne parla ma non si vede, ma la riforma fiscale che è stata fatta sono 30 miliardi di Euro che verranno prelevate dai redditi dei cittadini, questa è la vera purtroppo riforma che è stata fatta. Ecco lei che giudizio ne dà di questa riforma e comunque avendo anche dei discorsi di riflesso la Regione, il discorso del ticket per il quale Rani sta lavorando perché non si possa e non si debba pagare. Qual è la sua impressione su questa manovra fatta in fretta e furia oltretutto? La mia impressione è che la manovra che era necessaria per dare quelle garanzie all'Europa che ci vengono chieste sulla capacità di rientrare dal debito manchi proprio di questa parte, questa parte propulsiva e sui temi del lavoro e poi dopo ne parliamo un attimo e sui temi della famiglia. Devo dire che nei mesi che hanno preceduto l'approvazione della manovra più volte il Governo ha parlato e di quoziente familiare e di riforma degli scaglioni, quindi la riforma fiscale che non ha visto la luce nemmeno questa volta e lo voglio ricordare di ammortizzatore in deroga perché è il Cardinal Bagnasco che solleva il grande problema di questo tempo, che è anche il problema un po' della nostra generazione ma soprattutto di quella che la sta seguendo, io ho 37 anni fra un po' ma ci sono quelli 19 e 20 ai quali manca complessivamente la capacità di costruire un progetto di vita, bisogna che ricordiamo che non è solo la questione del precariato, delle co-co-co, delle co-co-pro, cioè qui ormai c'è un popolo di lavoratori autonomi costretti ad aprire la partita IVA perché le aziende ti dicono non ti assumo più come dipendente, ti assumo come prestazione di servizio, cioè mi fai la fattura di modo che io possa chiudere quel rapporto quando non ha più bisogno, fanno 12 fatture all'anno di importi di 2000, 2002, 2003, è il loro stipendio, bisogna che ricordiamo che tutti quei lavoratori lì non sono l'idraulico, il falegname, l'elettricista che era il lavoratore autonomo con diverse entrate al quale non riconoscevamo neanche gli assegni familiari e lo davamo invece al lavoratore dipendente. Qui stiamo ancora giocando con quelle regole ma il lavoratore autonomo sono dipendenti mascherati ai quali le aziende dicono no a costi di personale sia a prestazione di servizio e fanno le loro 12 fatture ed è la loro busta paga dove non c'è detrazioni, assegni familiari, cassa integrazione, c'è tutte queste robe qua. Bisogna anche ricordare che solo pochi mesi prima della manovra, forse un annetto buono, questo governo fa un provvedimento che lo scudo fiscale, il rientro dei capitali all'estero, tassati il 5% che hanno fatto entrare 100 miliardi di euro. Io le chiedo direttore, invece che il 5% se avessimo fatto pagare lo scaglione IRPEF normale, cioè trattandoli come redditi, bisognerebbe aprire una parentesi sul fatto che cosa ci facevano all'estero, ma facciamo finta che fossero entrate come le altre ma si recuperavano lì 40 miliardi e avremmo usato quelli per politiche attive per superare la crisi di sostenere famiglie. E oggi una manovra che è inicqua, ci vengo subito sul tema sociale e sanitario, ma avremmo usato queste risorse per dare garanzie e tamponare il debito. E invece manca di questa parte di rilancio su famiglie, lavoro, nuove generazioni. Con questo approccio un po' troffaldino, ne abbiamo parlato fino adesso, da un lato che la politica è esente dai sacrifici, bisogna anche ricordare che quando la politica ha questi importi, insieme ad altre categorie, ci sono i manager, ci sono i banchieri, ci sono i grandi funzionari, quei redditi che superano i 100-150 mila euro, quando tu togli le detrazioni per i figli a carico, non fai mica male a loro che con quei redditi non hanno detrazioni per i figli a carico, fai male a quelli, a proposito del cadena Bagnasco, che tengono famiglia, sostengono famiglia e con questa operazione di drenaggio recuperi risorse a scapito di quello che è il cosiddetto ceto medio, che oggi direttore è un'affermazione che non ha neanche più una valenza politica, una volta il ceto medio era il ceto che votava DC, che aveva il voto moderato, che guardava il mondo della borghesia, oggi quel mondo lì vota Pisa Pia proprio perché è deluso da un governo che non è liberale, che non guarda il mercato, che non tutela la famiglia, che non guarda il ceto medio. Lo dico anche nell'interesse della controparte, stiamo deludendo e stiamo affaticando un mondo che è davvero il motore propulsivo. Sul tema dei ticket c'è un'operazione secondo me molto grave, sostanzialmente è bene dirlo, quell'operazione dice riduciamo i trasferimenti alle regioni che possono coprirlo col ticket, mette in mano la pistola alle regioni le quali stanno facendo, lo dico anche qui perché questa è un'opportunità di informazione molto puntuale. A noi l'introduzione del ticket e la volontà di non farlo pagare agli emiliano romagnoli costa 61-62 milioni di euro tutti gli anni. Potremmo anche chiudere l'asse legislativa che non ne abbiamo abbastanza, nel senso che abbiamo parlato prima di quanto costa. Stiamo cercando di trovare queste risorse senza applicare il ticket, ma è evidente che mentre anche noi possiamo provare a tenere fermo il ticket, permesso che non so se ci riusciremo, questa è una scelta che competerà la Giunta e il Presidente Errani, aumenta il costo della farmaceutica, della protesica, cioè non è che il mondo è fermo e queste sono tutte spese aggiuntive per le famiglie, soprattutto per le famiglie numerose, per chi ha il bambino da accudire, l'anziano da assistere, il non autosufficiente in casa, bisogna ricordare che assieme a questa manovra qualche mese prima è stato azzerato il fondo per un'autosufficienza. Insomma, il rischio è davvero di spingere un po' il Paese su una soglia di impoverimento complessivo. Quello che sta denunciando anche Obama negli Stati Uniti, oh ragazzi, qui i conti pubblici vogliono dire immediata ripercussione sul welfare che riusciamo a derogare e garantire ai nostri cittadini. Questa è la grande preoccupazione che attraversa la regione in queste ore. Ecco, ma siamo quasi in finale della trasmissione. Ecco, le leggo cosa dice oggi su un'intervista mi sembra il resto del Carlino Rino Formica, ex ministro dei governi Craxi, un personaggio, un intellettuale che ha sempre avuto la lingua diciamo pronta e chiara. Dice l'intervistatore ma come sta la seconda repubblica? Dice la seconda repubblica è messa peggio della prima perché lo Stato è molto più fragile di allora. Poi dice ancora ma qual è il motivo per cui abbiamo questa situazione? Il motivo è il problema di Berlusconi, è quello di aver scommesso solo sul proprio carisma. Poi dopo dice il rischio che c'è che si possa andare a finire in situazioni delicate. Dice posso solo dire ciò che più temo, lo scoppio della rivolta dei giovani meridionali in stile Maghreb. È fatale che accada. Ecco, le ho dato due o tre perché la politica alla fine poi dovrà ricominciare perché io sento, vedo oggi le ANS parlano chiaro, sono là che lottano in Parlamento, hanno lottato oggi perché uno non venga arrestato, allora si dice poi i rifiuti di Napoli sì va bene però questo qui non è. Insomma dico ma questa è molto peggio della prima repubblica perché siamo arrivati così in fondo così male in pochi mesi direi perché poi il governo nei ultimi tre anni forse cose di tipo che ricorderemo storicamente non ci sono, questo bisogna dirlo con grande chiarezza, ma perché sono abbarbicati nonostante tutto ciò, nonostante la speculazione di cui si parla eccetera. Qual è il motivo che fa stare una classe dirigente al di là di tutto, al suo posto? Lasciare deteriorare così una situazione nella speranza forse che le cose possano cambiare da sole, che gli errori degli avversari possano essere più grossi e più importanti dei meriti che noi non portiamo, un atteggiamento reciprocamente dei due poli, l'idea di campare sulle disavventure altrui, allora una volta Prodi non dura e tocca a me e una volta questi non tengono e tocca a noi, ma così quella cosa a cui non si pensa sono le risposte da dare al Paese. Ve lo diceva una persona proprio alcuni giorni fa parlando di questa discussione, il Parlamento, i costi, ma vogliono proprio arrivare alla primavera africana da noi, vogliono proprio arrivare ai forconi, al farsi mandare a casa. Insomma questo è il grande rischio e è la cosa che non ci possiamo permettere. Abbiamo lasciato, io riconosco al Presidente del Consiglio, molte responsabilità, lo dico con grande franchezza perché ha ragione formica, ha pensato che attraverso di lui si potesse coprire la debolezza istituzionale, la debolezza della politica, anzi la proprio teorizzata, il che pensi mie, ci penso io e lasciate stare i partiti, le forme vecchie, tutta roba datata. E oggi abbiamo un quadro istituzionale molto debole, comuni piccoli, con poche risorse, frammentati, non in grado di dare risposte, province che un giorno si e l'altro pure si discute sulla loro abolizione, che autorevolezano regioni più al centro dei costi della casta, di quanto costa asseduta ogni Consiglio regionale, uno Stato che non ne parliamo, ma insomma così questo Paese qua è come se ad un corpo tu sfili la spina dorsale, poi pretendi che stia in piedi, quel corpo si ammoscia su se stesso anche se ha il fisico più tonico e muscoloso, un sistema imprenditoriale, delle banche sane, questo è il punto. E allora anche qui cosa aspettiamo, lo dico anche a noi, la mia parte politica, a mettere in campo non qualche strumento tampone sul tema dei costi perché oggi va così, su una riforma dello Stato nel suo complesso. Faccio una domanda, ha ancora senso quattro presenze dello Stato in ogni territorio provinciale, prefetture, questure, agenzie, ministeri, ha ancora senso un livello di frammentazione delle competenze per cui di sociale se ne occupa il comune, i piani di zona, le unioni di comuni, le province, la regione che ha la competenza, o noi mettiamo mano a questo? E allora qui davvero si possono liberare risorse importanti per fare politiche virtuose? Non è li mando un po' gli stipendi, diciamoci la verità, questo paese ha bisogno di risorse importanti, il numeratore è troppo piccolo, abbiamo qualche privilegio da abbattere e lo abbatteremo, ma noi dobbiamo rivedere la spesa pubblica che oggi Cuba è il 50% di quello che produciamo, questa è la grande sfida che ad oggi né destra né sinistra hanno messo a fuoco. Penso che... Ecco, Presidente, voglio fare proprio un'ultima domanda che è una delle motivazioni che dividono le minoranze, le opposizioni di oggi. Lei è d'accordo che si debba andare a votare e lei sa che in questo paese di tradizione non ci si va d'autunno, quindi ci si andrebbe eventualmente in marzo con un cambio della legge elettorale, o lei sarebbe d'accordo che un governo di responsabilità nazionale, come la chiama Casini, mi sembra che lo stesso Bersani non abbia detto di no, Di Pietro dice di no, ma se però se è breve mi potrebbe andare bene. Ecco, ma io che sono molto più vecchio di lei, ricordo il 1976, quando l'inflazione era al 24-25%, quando la Germania, alla quale ci aveva dato i soldi e noi in garanzia l'oro, disse, beh, sarà bene che quell'oro della Banca d'Italia lo portiate qui nei nostri cavù, io mi ricordo perfettamente questo, cioè non si fidavano a quel punto e Moro ebbe l'intuizione, poi fu ucciso per ragioni che non si capiranno poi del tutto mai e fecero un governo di solidarietà nazionale che durò fino al 79, l'inflazione andò sotto alle due cifre, il paese divenne un altro paese, guarda caso la paura di imbarcare i comunisti successe quanto segue, che i democristiani guadagnarono il 3%, i comunisti persero il 3%, ma io ricordo quel momento perché avevo la sua età, quindi ricordo questo, non le pare che sia davvero diventato il momento di mettersi tutti insieme, coloro che ci vogliono stare per fare una stagione anche breve, d'accordo, insieme per far ripartire questo paese? Penso che sia l'unica possibilità che abbiamo perché i discorsi che abbiamo fatto oggi conoscano minimamente qualche realtà concreta, non è con qualche provvedimento di semplificazione che abbiamo visto presenti in questi giorni, ma è solo con un governo che dica non solo legge elettorale, che dica riduzione dei parlamentari, che dica abolizione del vitalizio, che dica anche riforma fiscale se fatto da un governo tecnico con capacità e competenze e che possa in un qualche modo togliere quegli interessi di bottega che oggi stanno caratterizzando troppo chi agisce le istituzioni, c'è bisogno di un periodo di safety car che poi esca e faccia ripartire la gara, ma abbiamo avuto troppi incidenti su questo circuito. Lei non lo sa, ma è il mio esempio che faccio, non l'ho fatto stasera per non ripetermi. Era quello della safety car, quindi penso davvero che adesso l'Italia abbia bisogno di questo. Grazie al Presidente Matteo Ricchetti di essere stato con noi, siamo nel mese di luglio, ma ripeto la politica non va mai in vacanza, quindi grazie di essere venuti qui da noi, ai nostri telespettatori grazie di essere stati attenti durante tutto questo lungo percorso che abbiamo fatto dal mese di novembre fino ad oggi, moltissime puntate e quindi noi diamo loro un appuntamento per il mercoledì 16 settembre, perché adesso è ora di andare in ferie, ma saremo qui a disposizione dei telespettatori con la nostra informazione, con i telegiornali e comunque se succederanno cose io sarò qui eventualmente a riparlarne insieme. Grazie a tutti dell'ascolto, buonanotte.